Siamo qui al Salone del Risparmio con Claudio Tosato di Anima SGR. Quali sono i prodotti che possono soddisfare le esigenze dei risparmiatori nel loro orizzonte temporale desiderato? L'orizzonte temporale desiderato dal cliente è il punto di partenza su cui costruire una soluzione di investimento. L'orizzonte temporale è molto importante, solitamente serve lungo per beneficiare dell'efficienza dei mercati. Il cliente lo dichiara lungo ma in generale il suo lungo è molto più breve di quello che ci si può aspettare. Allora come conciliare questo tipo di esigenza? L'industria, noi in particolare, ha sviluppato una serie di soluzioni di investimento di tipo flessibile che consentono da un lato di beneficiare dell'elevato potenziale di performance di mercati particolarmente volatili e che funzionerebbero bene nel lungo periodo. Dall'altro, attraverso un processo di investimento flessibile e strutturato, è possibile ridurre il rischio che questi mercati hanno offrendo delle soluzioni e dei risultati anche nel breve periodo. Si parla sempre di performance, ma qual è il ruolo del controllo del rischio? Il controllo del rischio è molto importante perché i mercati sono imprevedibili, sono volatili. Il ruolo del gestore è quello di cavalcare questi mercati, ma l'importante per produrre la performance è anche non prenderle quando le cose non vanno nella direzione desiderata. E per fare questo un primo livello di controllo viene effettuato dal gestore che appunto, nell'ambito di strategie di tipo flessibili, cerca di proteggere il portafoglio nelle fasi difficili di mercato. Ma soprattutto è anche molto importante che ci sia un risk management molto strutturato che eviti delle possibili criticità quando il mercato diventa veramente difficile. Grazie Prego